cari amici di non di solo pane ben ritrovati per una nuova puntata insieme accanto a me l'amico d'orrenato che è stracolmo di idee di cose belle e meno belle da condividere con noi ma ci dà l'occasione di finire questo anno liturgico anche questa puntata no d'orrenato andiamo in onda mentre celebriamo l'ultima domenica dell'anno liturgico che è la solennità di cristo re dell'universo fa un po paura questa dicitura chissà se ci arriverà un email dell'ufficio liturgico che ci aiuterà a cogliere veramente il senso no visto che di gesù non credo che insomma lasciamo stare senti d'orrenato partiamo da questo proprio perché il nostro anno liturgico si conclude con il vangelo di matteo 25 quando ti abbiamo visto affamato assetato e poi facciamo un mucchio di convegni su questo vangelo ma poi le persone che realmente agiscono io guardo a me stesso sono poche si fa sempre poco perché guardare a cristo come re significa guardare proprio all'anti re per eccellenza a colui che è posto di nascere fra le stelle nasce in una stalla a colui che sceglie di nascere piccolo e povero per accogliere tutti noi che siamo altrettanto piccoli e poveri allora ci dà l'occasione ancora una volta per aprire le porte della nostra vita gli orizzonti del nostro cuore al mondo intero che ne dici d'orrenato fatto una buona introduzione se no la possiamo rifare no no va bene credo che possa aiutare tutti i credenti e non credenti a riscoprire che l'essenza dell'annuncio cristiano non è poi il colore liturgico che poi cambierà con l'avvento eccetera eccetera o i paramenti che si debbono indossare o quante candele ci debbono essere sull'altare se dai due lati in un angolo solo col crocifisso in mezzo quanto devono essere alte eccetera ma quello che vale per tutti è riconoscere nel volto di ogni persona il volto di cristo avevo fame avevo sete ero nudo ero in carcere romalato ero straniero il vangelo delle che ascolteremo appunto di questo invito a fare le opere di carità così si chiamano ancora credo era anticipato da quello di domenica l'altra che ci diceva dei talenti no di chi sa fare crescere i propri talenti questi talenti che all'epoca nel vangelo era una valuta sono ad interpretare molto probabilmente come la nostra vita stessa che c'è stata donata c'è stata offerta e c'è stato donato altrettanto il talento della parola di dio eccoci quel vangelo ci interrogava chiedendoci come stai vivendo la tua vita come stai mettendo in pratica la parola di dio ecco qui la prova se stai aiutando chi è in queste situazioni di vita in carcere lo vai a visitare affamato li dai da mangiare assetato li da bere straniero l'accogli probabilmente il tuo talento si è raddoppiato triplicato quintuplicato altrimenti se hai un concetto di dio che ti mette paura lo nascondi per il ridaglio dire ho fatto bene tutto il mio compitino quindi don renato tu che insomma con questa osservazione liturgica non diventerai mai cerimoniere mi dispiace perché io se diventassi papa ti sceglierei sicuramente però caro don renato la vita è fatta di tutti i colori e la liturgia anche ci aiuta perché liturgia deriva da una parola che significa al servizio del popolo e quindi tutte le liturgie devono essere azioni al servizio del popolo cioè far crescere tutti noi in questa capacità di donare la nostra vita sentito renato ho già preso troppo tempo poi dopo mi dici che ti rubo più minuti i calcoli quanti ne parlo io quanti ne parli tu adesso ti lascio a te la parola perché sono certo che ci porti in qualche zona del mondo è in qualche zona anche dell'europa non molto lontana da noi che una volta era un paese solo poi è diventato una serie di paesi ma sono successe delle cose tragiche non molto lontano da noi che ancora ci interpellano e ci intergono la coscienza sì prima volevo però commentare la cosa della cerimoniere mi è capitato di fare da cerimoniere proprio a kirkuk in irak con il vescovo che era lui sacco e il nunzio apostolico in irak e la messa era in arabo in caldeo è un qualche cosa in italiano alla fine il nunzio tutto rimesso posto eccetera fa la benedizione in latino con tutte le varie invocazioni a cui rispondere e io ho cominciato a sbagliare rispondere la prima per cui ho risposto la alla prima con la risposta della seconda e ovviamente la gente non conosceva il latino quindi abbiamo riso dopo perché ho dovuto fare dovuto rispondere se le cantate se le suonata ma una carriera appena iniziata è già finita insomma no lui poi è andato lui all'onu francis assisi si chiamava e mi ha detto che mi avrebbe chiamato ma non mi ha ancora chiamato la seconda cosa tu parlavi dei talenti i talenti sono una cosa preziosa quel padrone che lascia ai suoi servi alle sue persone un talento due talenti uno cinque ha lasciato tutto la sua fortuna perché tu forse meglio di me sai che un talento equivaleva più o meno a 30 kg d'oro più o meno vent'anni di lavoro vent'anni di stipendio quindi anche chi aveva ricevuto un talento solo non aveva due euro in tasca aveva il corrispondente di vent'anni di stipendio quindi come dire il signore ce li dà questi talenti sta a noi farli fruttare e il talento è anche dicevi tu leggere quello che sta succedendo l'altro giorno è stato condannato dal tribunale penale per l'ex yugoslavia il generale Ratko Mladic accusato di genecidio l'assedio di Sarajevo il massacro di Serbrenica a luglio 95 e Sarajevo l'assedio dal 92 al 95 noi forse molti telespettatori si ricordano in quegli anni in questi giorni nel 92 a fine novembre fervevano i preparativi per andare poi dal 7 al 13 dicembre a Sarajevo ma la condanna di Mladic io ho scritto un'opinione di sulla rivista Mosaico la condanna ci fa interrogare ma è solo lui quando bombardava Sarajevo io ho qui la fotografia sulla cassetta delle munizioni che usavano i serbi c'era scritto Made in Italy quindi anche noi eravamo coinvolti quando è arrivato a Srebrenica i caschi blu hanno abbandonato il compound hanno lasciato in mano ai serbi le persone che lì si erano rifugiate e potremmo andare anche allora si parlava molto tra l'altro in quegli anni di calcio e di Berlusconi sono passati tanti anni anche oggi si parla di nuovo di calcio la nazionale le dimissioni e di Berlusconi e l'indifferenza di fronte alla guerra proprio l'altra sera la televisione parlava di nuovo degli F35 ma l'editoriale di un autorevole quotidiano come il Corriere della Sera qualche tempo fa scriveva quell'idea passite essere pacifisti in un mondo così bellicoso ci si abitua alla violenza e poi è facile dire la colpa è di uno Mladic è responsabile giustamente condannato ma non è il solo così come a volte in questi giorni c'è la giornata contro la violenza sulle donne è facile dire quello è un criminale oppure a volte accusare anche le donne che se la sono cercata forse quel mostro che vediamo negli altri si annida un po' anche in ognuno di noi quando commentiamo in un certo modo quando magari lasciamo che le svastiche naziste fioriscano anche su Facebook quando ci sono i saluti nazisti quando la violenza piano piano diventa quotidiana allora ci aiuta ci ha aiutato Papa Francesco che proprio il 23 pomeriggio giovedì pomeriggio ha fatto una preghiera in San Pietro per la pace in Sud Sudan e nel Congo chi è che parla ancora di Sud Sudan e Congo? ringraziamo Papa Francesco perché ci sveglia la coscienza insieme a non di solo pane ricorda anche questi stati del mondo che soffrono e ci dicono ci intergono continuamente senti Dorenato so che sei stato dal Papa io lui l'ho visto poi provato subito dopo un pochettino chissà cosa gli hai detto chissà cosa ti ha detto credo vi siate semplicemente stretti la mano e salutati con affetto e questo è già una cosa buona ma sono certo conoscendo anche la tua seconda veste che è quella oltre che di cerimoniere anche di inviato speciale di Televicio che magari un'anteprima sul discorso che scriverà e ci regalerà e ci offrirà come meditazione per la giornata mondiale della pace che per noi sarà sotto il monte giusto? il 31 dicembre nel cambio dell'anno forse ce la puoi dire eh hai sbirciato qualche appunto? ma io ho visto che aveva in mano dei fogli e noi innanzitutto invitiamo sotto il monte vicino dal VCO sotto il monte ci vuole meno di due ore e la notte del 31 faremo la marcia proprio nella città nel paese natale di Papa Giovanni ogni anno il primo gennaio è la giornata mondiale della pace quest'anno siamo un po' in ritardo nell'annuncio del messaggio il testo sarà reso noto più tardi ma il titolo l'anno scorso era sulla non violenza io credo che con quello che sta succedendo ho motivo e se vogliamo anche speranza di pensare che il Papa magari scontentando qualcuno o irritando molti tornerà sul tema della pace parlando dei migranti e dei rifugiati mentre alcuni si augurano che muoiano in mare o sotto i camion o sotto i treni o perché ci fanno grandi danni il Papa ce li vuole credo ricordare ce lo diceva già Lampedusa aspettiamo quando viene reso noto io mi auguro e spero che sia su questo tema potrebbe essere ripeto un motivo di riflessione le idee sono diversificate probabilmente le posizioni sono molto distanti fra le varie posizioni distanti in mezzo ci sono gli esseri umani e la nostra attenzione evangelica umana e cristiana e poi di tutto quello che pensiamo sicuramente non può che andare a coinvolgere questo in un lavoro di collaborazione che la politica, le comunità, il mondo laico tutti insomma i giornali, le televisioni devono fare e credo che questo sia un'occasione senti Don Renato siamo quasi in chiusura allora anch'io mi unisco al tuo appello ricordo della giornata contro la violenza sulle donne salutiamo in modo particolare con affetto tutte le donne che ci seguono soprattutto per il tuo fascino e per le tue caratteristiche no scherzo perché sono magari quelle sono quelle che magari anche a quell'ora lì sono in casa che stanno iniziando a preparare la cena o insomma iniziano a vivere quel clima di casa di famiglia che aiuta tutti noi come dice quella poesia in mezzo a tante cose tu qualunque cosa dai a una donna lei la migliora se tu gli dai un'abitazione lei ne fa una casa ed è tutta un'altra cosa quindi abbracciamo soprattutto quelle che magari abbiamo conosciuto nella vita che hanno sofferto questo io penso alle bambine che ho incontrato in Guatemala e a quelle suore che si prendono cura di loro che hanno vissuto delle esperienze drammatiche nella loro casa ed è proprio loro che magari vorremmo anche nel tempo di Natale esprimere una piccola solidarietà anche per aiutare a ricominciare la vita e lo faremo con questa maglietta che oggi dono a te e che arriva da Betlemme è una delle opere più famose di Bansky questo artista che è misterioso di cui nessuno conosce il volto ma di tutti conoscono la storia nel mondo questo è una delle sue più famose è presente sul muro a Betlemme insieme a quello della colomba col giubbotto antiproiettile insieme ad altri ma questo è un piccolo segno che noi offriremo durante l'avvento a chi lo vorrà prendere per dire che forse serve davvero questo cuore che vola verso l'alto che ci porta ad accogliere anche le persone che stanno male e quindi con questa piccola bimba facciamo un abbraccio a tutte le donne tutte le bimbe che hanno sofferto qualcosa di violento nella loro vita e io ne approfitto visto che ho parlato di Betlemme e vado poi a lasciarti il microfono per la conclusione di anticipare che il sabato 2 dicembre nella Procchi di Ghifa sarà presente Pimpa che abbiamo già intervistato che fa di lavoro il clown nelle zone di guerra a Bagdad, a Gaza Betlemme, Aleppo e tante altre zone del mondo a te Don Renato la conclusione augurandoti una buona festa di Cristo Re che colore liturgico c'è? non lo so perché noi possiamo modificare perché a Cesara è anche San Clemente il patrono della parrocchia per cui valuteremo se l'oro brillante il bianco il rosso del martirio noi avremo le cresime a Ghifa quindi bocchiamo lo spirito su tutti a te Don Renato di salutare i nostri telespettatori che io già faccio con affetto no, è solo per augurare la chiusura dell'anno liturgico l'avvento prepararsi al Natale non è tanto come abbiamo letto sui giornali che era quel clima con le luminari abbiamo visto per esempio Novara non facciamo nomi 39.000 euro spesi dal Comune per le luminarie noi nel nostro piccolo diciamo che si può prepararsi al Natale in modo diverso a Cesara anche quest'anno non le faremo e i soldi raccolti andranno per i poveri della nostra zona e per un'altra destinazione che dobbiamo ancora decidere allora un augurio al Pimpa che viene di nuovo tra di noi un saluto a tutti e a tutti e buona settimana ci vediamo come sempre settimana prossima SINKING FEELING SINKING